bella ragazzi siamo tornati con un nuovo video oggi in cui ci state vedendo dalla webcam ah certo arriva un po' ritardo eh però Shala se vedete le cose di ritardo non fa niente siamo con Omicron e non con i fan ma siamo con la gente random quindi ci divertiremo un po' e troveremo gente strana e speriamo che questo video vi piaccia perchè se no noi ci tagliamo e bene già già sono pronto lo vedi? guarda già, vedi qua già è rosso si che questo è proprio Darkgamer lo sai vero? si è il mouse comunque niente partiamo partiamo non partiamo che facciamo? bello fantastico bella chat si comincia bene credibile credibile aspetta ma tu mi senti io eccolo è lui il grande il magnifico italiano ti apposto? ma chi urli? boh telefono aspetta che mi sta a chiamarmi fratello un attimo solo aspetta eh a caso pronto? dai veloce che c'ho uno qua che sto parla comunque mi fratello è arrivato eh tutto a posto ho detto no vabbè ok sai che cazzo gli frega lui sei contento? vabbè tete dove sei? ah non c'è io comunque se sente io lo sento sento la musica quindi ti auguro parla ah sei di lecce noi siamo di roma non so se tenere accorto non si capiva comunque no no poco eh poco dai comunque segui youtube te? eh chi segui su youtube? eh idayshow fai jay eh poi non so me la godo la conosci? cosa? me la godo dread questi qua no incredibile quindi noi non ci conoscerà mai no no vabbè noi comunque anche noi siamo se mi dite il vostro canale mi posso iscrivervi dai grande che ci serve qualche iscritto dai noi ci chiamiamo grananas no no ragazzi non sbaglio fam level formentanza quindi intanto come guadagnare iscritti ragazzi esatto cioè questo comunque io non sento una minchia quindi ok è stato un piacere finirai su youtube aspetta zitto un attimo eh noi facciamo questi video qua tipo meagle Apple in segreto pure vabbè dai da oggi in poi avete un'altra volta guai daje daje momo capita che servo meagle perfetto ciao bello bella zia ciao appena vedo un uomo a cercare la prima bella zia t'apposto t'apposto dai che dici ma te sono youtube chi quale di due no te non ci credo ma chi lui o io non ci credo ma chi siamo scusa non mi ricordo io mi chiamo david lui si chiama amadeus non ci credo ah ma tu dici questo noi si si siamo noi siamo i the face game ma che cazzo mi hai già visto eh mi hai già visto si adesso faccio la cazzo non ti ha la scorda nessuno questa cosa dico io quando devo rimorchiamo posso fare una foto vai posso fare una foto anche se non sai chi siamo vabbè sciala comunque già ci ha visto ci ha riconosciuto zio figa dimmi quando la stai a fare che le metti in posa ma tutti capito vai metti in posa grazie zio grazie ciao bella zio ciao ciao scusa una cosa però ma perché mi dice continuate così se non sa neanche chi siamo cioè ti ho visto però non so chi sei però continua così vabbè vabbè comunque ciao amico bella io ma chi è charlotte del giordi shore è lei ma te dove sei di firenze ti conosco mi conosci voi siete cazzo voi siete due youtuber perché come cazzo fanno non lo so vabbè lo so lo so ananas no ananas ananas si più o meno dai si più o meno si grananas voi siete grananas si siamo noi grande cazzo guarda guarda aspetta 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 grana stai riconoscendo la voce che cazzo è vero è vero non so mai che fate eh famo le cose famo ma che cazzo famo i video cosa vorrete non si sente siamo dell'ilba siete dell'ilba come dell'ilba ah l'elba dell'elba dell'isola d'elba quindi conoscete omizuka è dell'isola d'elba che vuol dire lo conoscete davvero è lui cioè fa parte del nostro gruppo di youtuber anche aspetta aspetta chiamalo fermo non c'ho non c'ho non c'ho non c'ho non c'ho grande non c'ho tanta confidenza con lui però ci conosciamo comunque aspetta allora mi facciamo una foto va bene ok e a parte questo metto il compito allora dicevamo la pronuncia è l'isola d'elba non è elba ma è elba lo so ma qua a roma è tutto aperto soprattutto a quest'ora di guaroma di guaroma eh perché la pronuncia è l'isola d'elba no di elba no è elba no è elba tra elba non è delba è isola d'elba perché loro sono perché loro bevono la colapola capito oh oh quello è fiorentino invece di guarnese e poi a dio si aspetta dai passo chi è ah io guardo il dialetto non ci capisco un cazzo quindi per me sono tutti uguali facci una challenge con i dialetti ovunque sia anche lui si io facevo schifo se l'hai vista non riuscivo a fare un dialetto a parte il romano quindi è lui quello bravo che lo fa benissimo il fiorentino di guarnese ma non è vero faccio cagare cioè sono soltanto faccio l'ahare faccio l'azzo cioè comunque si mi prego mi facciamo lezioni se volete vi si sente un po' a scatti anche a voi vi si sente un po' a scatti cioè di voi allora parliamo con le move canone con le move se ha scatti comunque aspezzo vai più piano più piano panino bravo io non ho capito una cosa piano parla dimme dimme quanti anni avete quanti anni avete 22 Sì, che? Quell'altro? Ah, tutti e due, fantastico. E voi? 18. Se fanno 18? Avete fatto quest'anno, quindi? Grande festa. No, dobbiamo fare 19. Dovete farne 19. Ah, se ho 19. No. Dobbiamo farne 19. Ah, ok, dovete farne 19. Quindi, no. Comunque dai, noi andiamo avanti perché dobbiamo fare un video. Quindi, probabilmente sarete nel video. Sì, sì. Sì, sì. Cioè, sicuramente sarete nel video. È stato un piacere pure per noi, se volete mettete la foto pure su Insta che la mette a Gatico. Dai. Ok. Ciao. Ciao. Ma che cosa per non utenti? L'antanide dietro della superfaccia. Ah. Ah. No, dai, no, ci ha trollato. Certo. No, ma sto a sentire troppo in culpa, ragazzi. No, no. No, no. No, no. Mi sto a sentire troppo un colpo. Fermate. Ciao, beh. Ciao, beh. Cosa? Allora. Ciao, becca. Ah, quindi ci conosci. Ma anche noi non ci aspettavamo te. Cioè, comunque. Eh, ma è un fantastico. Ma troveremo uno che non ci conosce. No, comunque abbiamo beccato solo gente che ci conosce. Volevamo fare un video con la gente strana, ma a quanto pare sono tutte le gente che ci conosce. Tutti strani quelli che ci conoscono. Non so, tutti strani, infatti, è quella cosa. Mettete nel video? Si, può darsi, però devi fare qualcosa che meriti di andare nel video. Tipo, che ne so, uno spogliarello, rompere il vetro dietro a te, qualcosa. Lo sai che devi fare? Tira giù tutto quel mobile. Vai. Tutto quanto. Vai. Fai qualcosa. Ucciditi. Non lo so. C'è tanti mori. Si, ma poi non lo può vedere il video, scusa. Non lo so, fai qualcosa. Spara, spara a qualcuno. Ce l'hai una pistola? Perché? Che non ce l'hai una pistola. No, non siamo in America. Allora, non lo so. Ce l'hai un cane? Ce l'hai una ruspa? Un animale domestico, ce l'hai? Qualcosa. Che c'ha? Faccio uno spogliarello. Aspetta, pia un cane e balla c'è un valser. Sgozza il cane. No! No, scherzo. Balla il valser col cane. Pia un braccio e comincia a ballare. Comincia a fare così. Se lo fai ballare così. Oddio, davvero? Fallo ballare. E non te sento, lui che parli. Oh, che caruccio. Oh, che zampetto. Vai, vai, fallo ballare. Fallo ballare, fallo ballare. Puraccio, guarda il valser col cane. Guarda che roccio. Senza, comunque noi andiamo, ok? Dai, saluta il cane e tu sorella. Gettito così è strano. Ciao. Ciao. Dai, forza Inter. Forza Inter, la grande. Lo vedi, campioni di Italia. Ma è sempre Ron. È sempre Ron. Campioni d'Europa. Ah, vedi, c'è proprio il poster della Champions. Bravo, bravo. No, come questo che è romanista, la Champions non ha le trammandità sua. Ma comunque ti sentiamo, eh, se parli. Dici? No. Sì. Guarda, coprite la bocca e dì qualcosa. Scommenti che rivedo quello che dici. Guarda. È magia. Fenomenale. Comunque sì, stai facendo un video e ci andrai perché sei dell'Inter. Perché so dell'Inter e il video lo punto io. Ma tu sai che siamo noi? Siamo i presidenti. Ah, ma lo sa davvero? Io pensavo che lo sapevo. Ah, ma davvero lo sai? Agap. Ciao. Ciao. Sì. Io non sento. No, assolutamente. Ehi. Ti apposto. Ehi. Mi dici che tu sei un E, E, E. E, E, E. E, E, E. No, io non lo dico. Au. E, sì, salve. Buonasera, tutto bene. Io, il signor Mateusz. E non è una presa per culo, mi chiamo davvero così. No, io stavo cercando di... No, 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 non è vero. Scusa. No, no, no. Per cui... Che fido. Te invece è tutto a posto, vuoi partecipare? No. Abbiamo trovato, in realtà non abbiamo trovato nessuno che non ci conosceva. No, forse uno. L'ultimo con cui abbiamo parlato. No. E' il mio. Che ti ha detto che tu... E' perché l'ho portato io. Davvero? Sì. Comunque ragazzi, questo video è finito. Se vi è piaciuto lasciamo 5.000 like. La prossima volta magari lo facciamo con voi. Facciamo un post e ci incontriamo tutti quanti insieme, appassionatamente. Comunque abbiamo incontrato gente interessante. No? Sì, sì, certo. C'era Ron. C'era Ron. C'era... Le amiche di Unitsuka. E... Vigna con la moda. L'altro. Probe. Ma tutte e due erano carine, dai. Sì, no. Comunque... E' molto interessata. Scusa, c'ho un buccone in bocca. No, vabbè. Ok. Comunque, se siete interessate, chiamateci. No, stiamo scherzando. Comunque, a parte tutto, non stiamo scherzando. Stiamo scherzando. Allora. Detto questo, noi ci becchiamo al prossimo video. Dei grazie, è tutto. Bella. Ciao. 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 Grazie a tutti.